Musica Ragazzi buon pomeriggio Allora per me sono le 17.30 Polpettina si è appena svegliata Quindi io mi faccio una tisana calda E lei ha voluto un goccino di latte Strano, mi ha chiesto proprio il latte Comunque le l'ho fatto e si guarda bing Io nel frattempo mi preparo La tisana quella a miele Cannella e limone Che dicono che è miracolosa Brucia grassi Mal di gola Attenua la fame Di tutto, allora dico proviamoci E niente Quindi mi faccio subito questa tisana Vabbè a me piace la cannella Io la adoro La metto anche sul pane tostato Banana e cannella E mi piace tantissimo Questo invece è il limone Che abbiamo spremuto I nostri limoni Quindi per non buttare via i limoni Io spremo il succo e congelo Poi come mi serve Un quadratino alla volta E' pronto E niente Nell'attesa Perché io questa la faccio Un po' posare la cannella Altrimenti poi Mi dà fastidio alla gola Polpettina che vaga E voglio subito aprire Mi è arrivato un pacco Veramente me l'ha portato mio padre Mi stavo lavando i capelli Meno male Meno male Se no il corriere se ne sarebbe andato Mi ha portato un pacchetto Ho collaborato con l'azienda I happiness E spero di averlo pronunciato bene E niente Quindi Mi hanno dato un budget Allora io con questo budget Ho scelto di prendere tutto a Denise Ho preso un completo di orecchini E bracciale Allora gli orecchini Loro li chiamano Orecchini a bottone Del non ti scordar di me Non lo so adesso Perché non sia il loro nome O come Non lo so Invece il bracciale C'è scritto Petite fiore Io ovviamente vi lascio Sia il collegamento al sito Perché c'è tanto da scegliere ragazzi Sia il collegamento agli orecchini Che al bracciale Poi mi hanno detto di comunicarvi Che questa è la promozione di San Valentino Quindi Dal 15 gennaio al 14 febbraio è valida Se spendete più di 49 euro Otterrete il 12% Se spenderete più del 79 Di 79 euro Otterrete il 12% Più una scatola Per anelli con cuore E io l'ho vista E carinissima E in velluto E in più Se spenderete più di 99 euro Riceverete il 12% Più un regalo gratuito Sono bellissimi questi regali Io questi qua Come vi dicevo Li tengo a Denise Perché Ci tengo Come ho preso Qualcosina morena Qualcosina per me In questi anni Di collaborazione Adesso È giusto Che io prenda anche Qualcosina Per Denise Quando sarà il momento Le indosserà Allora ragazzi Sono appena tornata Da fare la spesa E vi volevo far vedere Ho preso Le piadine Che c'è mamma Aspetta Le piadine E questi yogurt Che usiamo Spesso Si può dire Che io Uso sempre Questo Questo gusto Poi Poi Queste cioccolate Che le abbiamo Già aperte E queste qua Tipo Le kinder Ah Le kinder cereali Si vendono sfuse Di solito Alla cassa Però oggi Ho trovato il pacco E l'ho preso Ovviamente Ci sono stati Già i topini Cosa vuoi far vedere Tu? Le patatine Queste Taglio rustico Aspetta mamma Che devo mettere Le cose in congelatore Poi Le olive Ascolane Queste I pomodori Per fare una caprese La tinta nera Questo Detergente per WC L'ho già preso E mi piace Questo è tuo mamma Si Ho preso Questo latte al cioccolato Giusto quando andiamo In campagna Per far fare Uno stuzzicchino A Denise Poi Quest'altra tinta E' uguale Le ho prese Tutte e due nere Questi Tipo Tuck Sono Tre pacchi E c'erano Questi Dischetti A 79 centesimi E ho preso Tre pacchi Vabbè Uscirà l'altro Vieni l'acqua E' caduta Poi Questi panzerottini Da fare i fritti Deni prendi l'acqua Queste cotolette Le ho già prese E le ho riprese Perché ci sono piaciute Poi pan carré Due pacchi Ecco qui il secondo Per fare i toast Deni mi dai un attimo A mamma Le crostatine Le crostatine Il latte detergente Questa è la prima volta Che lo prendo Fior di magnolia Non l'ho mai preso Però secondo me E' delicato Poi Salame Grosso Salame sottile Petto di pollo Il pezzo intero Vai caccia Un'altra cotoletta Che perde olio Tra l'altro E queste Simil pangoccioli Non mi ricordavo Aspetta mamma Allora Ecco il terzo Dei dischetti Il terzo pacco Dei dischetti Poi ho preso Questo ammorbidente Io di solito Prendo Ma lo prendo io Deni non ti preoccupare Prendo questo qua Brezza marina Per oggi Volevo provare Sempre a 1,09 euro Questo gelsomino Scarlatto Da provare Poi C'era L'iceberg A poco prezzo Quindi ne ho Ne ho Profittato Ne ho presi due Fermo Deni Mi fei cadere la spesa La sfoglia La pasta sfoglia Le fettine Di Di sottiletta Questo Al talco Diodorandi Al talco Che costa poco Ed è buono E ho preso Un po' di Wustel Piccoli E un po' Di quelli Grandi Per fare Una cena Che vi farò Vedere Vabbè Poi nella busta Usciranno altri Wustel Perché ne ho presi Un bel po' Ho preso Il sale Per la Lavastoviglie Di mia mamma Sì Adesso lo prendiamo La pancetta dolce Qua io con due Con un pacco Faccio due porzioni Perché tanto a pranzo Siamo solo Io e Alex Poi una confezione Di aglio E Solo che è grande Io non lo consumo Tanto l'aglio Magari me lo divido Con mamma E ho preso Questo Preparato per Cranc caramel Ha forse Un euro e diciannove Un euro e ventinove Poi Denise Mi aiuta Con la spesa E ci fa vedere Cosa ci fa vedere Il prosciutto cotto Che dobbiamo fare La pizza rustica Queste mozzarella Panate Da fare Fritte Poi questa è piccante E la ventricina piccante Sì ventricina piccante E io la prendo Solo quando vado All'Eurospin Perché Nel negozietto Vicino casa mia Non c'è Poi mamma Ha preso una volta Questo Rotolo Con speck E E basta Era in offerta E l'ho voluto prendere Perché come l'ha fatto mamma Al forno Con le patate Mi è piaciuto La pasta No Fermo Sono le mezze maniche Poi E questo Veramente La prima volta Che l'ho preso Mi serviva Un detergente Per l'igiene intima Di Denise E ho preso questo Poi Altra pasta Qua Apri Vai Altra pasta Denise L'altra pasta Prendila Non ce la fai Poi Qui stavano I tortiglioni E qui sono Le penne rigate Dopodiché Ho preso Due di succo Alla pera C'è il secondo Mamma Ecco qui Ora guarda Nella busta Cosa c'è? Guarda Guarda bene Cosa c'è Nella busta? Denise Cosa c'è? Niente più Abbiamo finito? Tutto qui? E niente Qui Manca la spesa Di frutta Che non ho preso Perché l'altro giorno Abbiamo preso Le banane Pere E mela E basta Non mi serviva Nient'altro Allora ragazzi Spesina fatta Questa ricetta È di molti giorni fa C'era ancora morena È stato il penultimo giorno Prima della partenza Di morena Però ci tenevo Farvela vedere Allora Io ho messo Questa fettina Scegliete voi Quale L'importante È che sia sottile L'ho salata E l'ho fatta stare 5 minuti Così Ha assorbito il sale Dopodiché Un po' di prosciutto cotto Io l'ho divisa La fettina del prosciutto cotto Perché Quando mi fanno ridere Non l'ho tagliata Questa scena Perché mi piaceva Il prosciutto cotto L'ho tagliata a metà Perché la fettina Si sa È piccolina Quindi Non serviva intera E voi ragazzi Prima di arrotolare Ci potete mettere La mozzarella E le sottilette Io non avevo Né una Né l'altro Anzi Avevo le sottilette Però mio marito Non le mangia Quindi Non avevo poi La variante Della mozzarella Quindi ho deciso Di non mettere nulla Però secondo me Ci sarebbe stata bene La sottiletta La prossima volta È la mozzarella Ovviamente Poi Dopodiché Infarino Da tutti i lati E rigorosamente Con l'aiuto Di Denise Metto Su una fiamma Media Normale Non troppo alta E non troppo bassa Cipolla E olio Lascio Soffriggere Pochi minuti E aggiungo Questi Involtini A questo punto Ragazzi Dopo 5-6 minuti Giro già la prima volta Metto il prezzemolo E lascio Un altro po' Chiuso Per poi sfumare Con vino bianco Io ragazzi Non ho aggiunto acqua In tutta la cottura Non ho aggiunto Nemmeno mezzo bicchiere D'acqua Quella cremina Che voi vedrete Alla fine Sarà solo Olio E la farina Che ovviamente Si è creata Poi Che la cremina E mamma mia Come è buona E buonissima Io la voglio rifare Una di queste sere Guardate Chi sfumo Lasciate aperto Un po' Prima di rimettere Il coperchio Così fate sfumare bene Soprattutto Se la devono mangiare I bambini E guardate Che spettacolo Immaginate Con la sottiletta Sarebbe stata Proprio deliziosa Noi ci vediamo Al prossimo video E vi saluto Ciao